Bella a tutti ragazzi, io sono Adria e benvenuti in questo secondo episodio di come guadagnare 100 milioni in GTA Online. Come avete visto alla fine del primo episodio ci siamo lasciati appunto qui all'interno della Clubhouse perché si stava facendo veramente troppo lungo quell'episodio. Per quelli nuovi che non hanno mai visto questa serie vi ricordo brevemente che in questa serie il nostro obiettivo è di raggiungere almeno 100 milioni di dollari con questo personaggio di GTA Online. Attualmente ci troviamo a 941 mila dollari e abbiamo iniziato praticamente da pochissimo la nostra carriera in GTA Online. Se vi siete persi l'episodio precedente vi consiglio di andarlo a vedere perché ho fatto vedere un sacco di cose fondamentali e soprattutto vi ho fatto vedere come siamo arrivati a questo punto. Tra l'altro vi ricordo che gli episodi di questa serie usciranno ogni martedì e sabato alle ore 14 qui sul mio canale proprio per questo se ancora non siete iscritti mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche così non vi perdete nessun episodio e riuscite a raggiungere anche voi tranquillamente i 100 milioni in GTA Online se non di più. A questo punto direi di incominciare subito da dove ci siamo lasciati ossia uscire dalla nostra clubhouse e recarci immediatamente al nostro garage di produzione. Durante lo scorso episodio appunto abbiamo scelto la nostra carriera di biker quindi abbiamo iniziato con gli stabilimenti del Motorcycle Club che secondo me è veramente il modo più facile per iniziare a giocare a GTA Online soprattutto se siete poco esperti. Eccoci qua siamo appena arrivati questo è il nostro garage di coca quindi entriamo per la prima volta nel nostro stabilimento sicuramente dovremo fare l'allestimento a questo punto dello stabilimento. La prima volta che entrate chiaramente vi farà vedere tutto in maniera molto desertica perché appunto non c'è niente dobbiamo ancora allestirlo e brevemente vi spiegherà come funziona e cosa dovete fare. Come vedete in alto a sinistra dice che possiamo espandere la nostra clubhouse con un'officina personale che ci permette di modificare le moto e di riparare quelle dei clienti per guadagnare qualche soldo in piena legalità. Personalmente non vi consiglio di intraprendere quel business bensì concentratevi su questo business che è molto più profigo e sicuramente vi permetterà di guadagnare più soldi sul lungo andare per non parlare della comodità di questo business soprattutto quando sarete più avviati e avrete da fare meno lavoro. A questo punto come vedete dobbiamo recarci qui in questo portatile per chi di voi non lo sapesse tramite questo portatile possiamo fare qualsiasi cosa relativa appunto ai vari stabilimenti e si accede premendo la freccia a destra. In questa schermata premete accedi e come vedete a questo punto ci darà come unica opzione allestimento dopodiché una volta che avremo fatto l'allestimento il nostro stabilimento sarà operativo al 100% e poi qui troveremo altre voci. Comunque ve lo faccio vedere meglio dopo appena abbiamo finito l'allestimento quindi selezioniamo allestimento e facciamo conferma ci arriverà la telefonata alla quale vi abituerete insomma ogni volta che avviate una missione di recupero scorte di allestimento comunque di vendita da parte di LGT e poi ci dirà appunto la posizione dove dobbiamo andare in questo caso dobbiamo raggiungere la puerta e sono quasi 7 chilometri di tragitto ma non vi preoccupate perché comunque avete una moto super veloce quindi non ci metterete troppo tempo a raggiungere la destinazione. Comunque per quanto riguarda la missione di allestimento in realtà non c'è nessuna difficoltà semplicemente durante la missione di allestimento questo vale per tutti gli stabilimenti dovete guidare appunto dal vostro stabilimento al luogo dove dovete andare a recuperare il veicolo dell'allestimento prendete il veicolo dell'allestimento non ci saranno nemici tranquilli e lo dovete semplicemente riportare al vostro stabilimento. Fatto ciò la missione di allestimento sarà terminata arriveranno i vostri dipendenti per la prima volta e inoltre avete la barra delle scorte al massimo quindi inizieranno poi a produrre la merce i vostri dipendenti tramite le scorte. Ve l'ho spiegato in breve adesso comunque dopo ve lo farò vedere meglio appena facciamo le varie cose e quindi ci vediamo appena arrivo alla puerta. Allora eccoci qua come vedete siamo arrivati dovrebbe trovarsi tipo qua a destra sì eccolo qua come vedete in questo caso dobbiamo prendere il veicolo semplicemente scendiamo dal nostro saliamo su questo veicolo e automaticamente come vi dicevo non ci sono nemici non ci sono problemi e dobbiamo semplicemente guidare il nostro veicolo allo stabilimento. Inoltre come vedete in basso a sinistra ci è arrivato il messaggio di LGT come vedete il bagagliaio dovrebbe essere bello pieno e pesante torna alla base guidando con prudenza. Finalmente dopo un bel viaggetto siamo ritornati al nostro stabilimento oltre come vi dicevo appunto a un po' di rottura di scatole che appunto dobbiamo fare un bel tragitto non c'era nulla di difficile infatti allestimento completato la produzione di coca è stata avviata. Adesso ci farà vedere un'altra cinematica dove appunto ci spiegherà che è l'area di produzione tutto quanto sempre una sorta di spiegazione in breve del nostro business ma appena finisce questa cinematica vi spiego meglio io come funziona o in generale se vi interessa potete andare a vedere i video che ho fatto per quanto riguarda gli stabilimenti dove spiego in tutto e per tutto come funzionano quanto si guadagna e tutte queste cose qui. Perfetto come vedete intanto aumento di rango rango 3 rango 4 vediamo a quanto arriviamo rango 5 rango 5 perfetto siamo arrivati a rango 5 l'allestimento è stato completato come vedete la barra delle scorte lì in basso adesso è apparsa ed è tutta verde significa che è piena quasi al massimo c'è una piccola tacchetta che praticamente non c'è più. Ok tutto a posto la produzione può partire e quindi perfetto a questo punto l'unica cosa che dobbiamo aspettare come vedete non ci sono ancora i dipendenti qui all'interno dobbiamo aspettare effettivamente che arrivino i nostri dipendenti a quel punto effettivamente potrà iniziare la produzione di merce. A questo punto voglio vedere se effettivamente ci sono altre missioni o se finalmente il gioco ci permette di giocare liberamente una cosa che vi consiglio di fare subito qui all'inizio recatevi qui al nostro portatile accedete a questo punto come vedete avete le opzioni che avete normalmente all'interno degli stabilimenti una volta che avete fatto l'allestimento ossia rifornisci dove potete scegliere se acquistare o rubare le scorte. Per quanto riguarda le scorte in realtà all'inizio io di solito consiglio di rubarle perché comunque avete solo questo business e non vale l'apena spendere 75 mila dollari quando sono vuote le scorte per acquistarle al massimo. In alternativa se avete altri business che poi avremo più avanti ma poi ve lo spiegherò più avanti nei prossimi episodi generalmente consiglio di acquistare le scorte perché vi permetterà di risparmiare il tempo che impiegate a fare queste missioni e tutto sommato andate a risparmiare sia soldi che tempo. Però per iniziare sicuramente vi consiglio di rubarle quando avete bisogno di scorte e chiaramente per rubare le scorte aspettate più o meno che il livello di scorte sia basso o esaurito e poi andate a rubare le scorte. Per quanto riguarda rubare le scorte se fate questa missione di rubare le scorte da soli quindi senza nessun amico ci sono due possibili varianti. La prima variante è dove trovate appunto un borsone quindi dove dovete recuperare una cosa raccoglibile che poi dovete portare qui che vi riempirà una tacca di scorte per intendersi una tacca di scorte si intende praticamente lì in basso a destra come vedete ci sono tot tacche praticamente 5 tacche e una di queste tacche si riempirà se troverete appunto la scorta raccoglibile. Se invece durante queste missioni trovate un veicolo che dovete riportare qui e non la scorta raccoglibile vi riempirà due tacche di scorte quindi tecnicamente per quanto riguarda fare queste missioni da solo dal punto di vista delle scorte la cosa migliore è trovare un veicolo. Anche se sotto questo aspetto devo dire che sì è migliore perché riempite praticamente due tacche di scorte quindi è come se fate due volte la missione di recupero scorte tramite appunto le scorte raccoglibili ma nel caso in cui raccogliete le scorte avete la possibilità di guidare il vostro veicolo per tornare qui quindi la cucio drag nel nostro caso che è molto più veloce sicuramente rispetto all'altro veicolo che invece dovete guidare. Quindi diciamo che ogni missione ha i suoi pro e i suoi contro. Passando adesso alla prossima categoria come vedete acquista migliorie ci sono due differenti migliorie che potete acquistare ossia le attrezzature per 935 mila dollari oppure il personale per 390 mila dollari. Perché non menziono questa qui della sicurezza perché secondo me sono soldi buttati 570 mila dollari che secondo me non vale la pena spendere perché comunque all'inizio abbiamo bisogno di più soldi possibili per appunto arrivare al nostro obiettivo di 2 milioni e 200 mila dollari. Tuttavia gli investimenti che vi consiglio di fare all'inizio sono o la miglioria delle attrezzature se proprio volete spendere tutti i soldi oppure la miglioria del personale se non volete spendere tutti i soldi. Entrambe queste migliorie sono da fare perché vi migliorano veramente di tantissimo sia il valore della merce prodotta che la velocità di produzione. Nel mio caso inizierò con la miglioria del personale che costa 390 mila dollari che faccio subito siccome comunque avevamo più di 940 mila dollari. Acquistando questa miglioria avremo più personale ed inoltre ripeto sarà anche maggiore il valore della merce. In realtà avrei anche potuto acquistare la miglioria delle attrezzature perché costava 935 mila dollari o 940 mila dollari quindi avrei potuto acquistare questa. Però non mi piace l'idea di rimanere con solo 5 o 6 mila dollari cash e quindi ho deciso di acquistare per il momento solo questa miglioria. In generale poi in futuro andremo ad acquistare anche quest'altra miglioria ma attualmente rimaniamo così anche perché attualmente ho 500 mila dollari e non mi posso permettere di acquistare anche questa. L'altra categoria invece che rimane è quella di chiudere lo stabilimento cosa che non vi consiglio di fare perché se lo chiudete la merce andrà perduta così come le scorte che avete. Se fate questa cosa non vi preoccupate perché non perderete le migliorie che avete acquistato ma perdete solo il livello delle scorte e il livello della merce se era presente. Una volta chiuso lo stabilimento per riaprirlo dovete semplicemente rifare la missione di allestimento che abbiamo fatto poco fa. E a quel punto una volta fatta la missione di allestimento tornerà a livello di scorte al massimo e riprenderanno la produzione di merce. Un'altra cosa importante che voglio dirvi subito qui a questo punto come vedete lì a sinistra ci sono un sacco di persone all'interno di questa sessione che si stanno uccidendo tra di loro o comunque che in generale sono presenti. Come vedete ci troviamo infatti in una sessione pubblica con 28 persone. Personalmente se state giocando a gt online soprattutto all'inizio per guadagnare soldi non vi consiglio di giocare mai all'interno di una sessione pubblica perché molta gente verrà a disturbarvi e a rompervi le scatole in generale. La cosa migliore da fare è aprire il menu andare su online andare su trova una nuova sessione e andare su una sessione solo inviti. Infatti da questa tipologia di sessione potete fare tutte le identiche cose che potete fare in una sessione pubblica solo che sarete praticamente solo voi e al massimo le persone che voi inviterete. Quindi se volete giocare in tutta tranquillità da soli potete andare in sessione solo inviti o comunque se volete giocare in tutta tranquillità con dei vostri amici in ogni caso andate in sessione solo inviti perché li potete invitare e siete solo voi. Per cui non entrerà gente strana e soprattutto non arriverà gente a infastidirvi e a rompervi le scatole. Perché vi sto dicendo questa cosa? Perché praticamente fino a poco tempo fa tutte queste cose si potevano fare solo in una sessione pubblica. Adesso invece abbiamo la fortuna di poter fare tutte queste cose anche in una sessione solo inviti e vi assicuro che ne vale la pena. Perché prima quando ho iniziato io con il mio personaggio su PlayStation 4 vi assicuro che era veramente una rogna perché mentre facevate delle vendite o comunque dei recuperi di merce per il vostro stabilimento vi venivano a distruggere il carico e quindi praticamente avevate perso tempo perché potevate riniziare la missione da zero. E nell'ipotesi peggiore che appunto vi sono venuti a distruggere mentre vendevate la merce praticamente avevate perso tutto il vostro duro lavoro e il tempo che avevate investito per far produrre la merce ai vostri dipendenti. Quindi si tratta di ore e ore di gioco. Quindi a questo punto facciamo questa cosa anche noi troviamo una sessione solo inviti cambiamo immediatamente sessione in modo tale appunto da evitare che ci vengano infastidili i giocatori mentre facciamo tutte le nostre cose. Come vedete il cambio è stato praticamente immediato perché per fortuna qui su PS5 è rapidissimo su PlayStation 4 invece si doveva aspettare abbondanti 20-30 secondi a volte. Quindi siamo risponati qua possiamo rientrare all'interno del nostro stabilimento e come vedete rientrando sono apparsi finalmente i nostri dipendenti che stanno iniziando a lavorare a produrre finalmente la merce. A questo punto se volete potete anche tranquillamente starvene AFK a far produrre a loro la merce finché le scorte non finiscono in modo tale appunto che poi una volta che avete la merce pronta potete fare una vendita. In realtà non è che funziona proprio così anche perché nel prossimo episodio vi darò dei consigli per ottimizzare al massimo questo stabilimento ma anche tutti gli altri stabilimenti che poi acquisterete in futuro in GTA Online in modo tale da renderli il più produttivi possibili e soprattutto per farvi perdere il minor tempo possibile appresso agli stabilimenti. In modo tale appunto che mentre i vostri dipendenti producono la merce per voi finché appunto avete delle scorte voi potete concentrarvi su altre attività che comunque vi faranno guadagnare sempre soldi e quindi avete sostanzialmente una sorta di guadagno passivo da qua perché tornate qua e fate semplicemente la vendita e in più nel mentre che qua produceva la merce avete guadagnato soldi facendo altre attività. Lo andremo a fare meglio nel prossimo episodio a questo punto ragazzi finalmente possiamo dire che a quanto pare è finito il tutorial online quindi non abbiamo bisogno di fare altre missioni altre cose per quanto riguarda quelle che il gioco ci costringe a fare e siamo liberi di fare quello che effettivamente ci conviene fare. A questo punto ragazzi per non rendere troppo lunghi questi episodi perché so che comunque magari non avete la possibilità di vedere episodi da 30 minuti 40 minuti che effettivamente mi rendo conto che sono lunghissimi direi di terminare qui l'episodio abbiamo allestito e diciamo avviato il nostro business il nostro primo business all'interno di GTA Online abbiamo investito i nostri primi soldi quindi siamo scesi a 550 mila dollari ma vi assicuro che sono soldi ben spesi. Nel prossimo episodio andremo a vedere meglio altri metodi per guadagnare soldi nel mentre che il nostro stabilimento produrrà la merce per conto nostro mentre appunto come vi dicevo prima andremo a fare altre attività e iniziate ad abituarvi a questa mentalità appunto di avere dei business praticamente passivi come li chiamo io insomma semi passivi perché dovete giusto fare qualche acquisto di scorte qua e là e poi la vendita quando avete la merce al massimo generalmente io faccio così. Se invece siete da soli non vi consiglio di fare la vendita quando avete la merce al massimo bensì di fare la vendita un pochettino prima in modo tale da non avere tre veicoli ma andremo a vedere meglio poi negli episodi successivi quando si tratterà effettivamente di fare la vendita di questo stabilimento così vi spiego effettivamente meglio come funzionano le vendite e cosa vi consiglio di fare in base al vostro stile di gioco. Quindi come al solito io vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video per essere stati qui presenti se avete domande fatemi sapere qua sotto nei commenti appena posso vi rispondo lasciate un bel like se ancora non l'avete fatto che mi date una grandissima mano e noi ci vediamo con il prossimo episodio sabato alle ore 14 mi raccomando non mancate dateli a tutto un salutone bella ciao raga.